Uomini e donne, Alessio e Samantha si baciano in esterna. Le loro parole. Giornata di baci, quella a uomini e donne, durante la puntata prima c'è stato in esterna il bacio tra Martina e Giacomo, poi quello fuggevole tra lui e Carolina, e infine c'è stato il bacio tra Samantha e Alessio. In esterna si sono vestiti eleganti, hanno fatto una romantica cena, e infine si sono messi commodi abbracciati sul divano, dove prima è scattato il bacio rigorosamente con la mascherina addosso, poi la tronista Samantha Curcio ha chiesto di spegnere le telecamere, e lì c'è stato un bacio più lungo e passionale. C'è grande chimica, e è stato un bacio tra due persone che si piacciono. Ero felicissima una volta tornata in camerino. Boh dan dopo il bacio tra Samantha Curcio e Alessio a Uomini e Donne, mi sono sentito frenato. Una volta tornata in camerino la tronista Samantha Curcio era felicissima, ma proprio allora, ho ricevuto un messaggio da Bohdan che mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi ha fatto dire che sì, c'è anche lui. Tra lei e Alessio Cenicola c'è grande chimica e affinità tant'è che la cena è durata poco e sono subito andati sul divano al fine di rimanere un po' insieme, abbracciati. Anche l'esterna con Bohdan è continuata senza le telecamere, ma non è successo nulla di importante. Le parole di Bohdan, ho pensato di baciarla, ma mi sono sentito frenato. Samantha Curcio ha dei dubbi su Bohdan a Uomini e Donne, non abbiamo tanto tempo. L'esterna tra Bohdan e Samantha non è stata delle più coinvolgenti e quando lei ha deciso di continuarla senza telecamere ha confessato poi in studio a Uomini e Donne, di non sentirlo molto coinvolto, anzi, ancora più freddo. Per questo gli ha detto quanto segue, non abbiamo tanto tempo ti chiedo di aiutarmi. Se per tutte domande che ti faccio, mi dici che lo scoprirò, no, vorrei che tu mi venissi incontro. Le parole di Bohdan su Samantha sono chiare, ma le intenzioni decisamente meno.